Ciao a tutti, eccoci in questo nuovo video dove vi parlerò un po' del canale, di alcune serie che farò e altre cose in generale, allora prima di tutto comincio a dire che domani alle 2 ci sarà una nuova live sulla Master League di PES 2017, andrò avanti da dove eravamo rimasti circa due settimane fa, vedremo, durerà circa un'ora e mezza come al solito, minimo un'ora sicuro, un'ora e mezza, magari anche due ore se riesco, comunque alle 2 tutti sul canale che c'è la live poi un'altra cosa è che l'avevo già detta nell'ultima live, credo, di PES, se volevate che io continuavo la Master League in live oppure in video normali come facevo con il gioco per PS3, allora mi avete già risposto che preferite in live però io vi rifaccio questa domanda visto che non c'era molta gente in live, cioè io per il momento credo che la continuerò così però ditemi voi cosa pensate perché se preferireste vederla in video normali io magari posso cambiare decisione però ovviamente non se me lo dice una persona ma qualche, almeno, cioè un po' di persone devono almeno essere d'accordo su questa cosa se me lo dice uno ovviamente continuo così per il momento la mia idea è di proseguire facendo le live però posso cambiare se c'è tanta gente che mi dice di farlo in video normali un'altra cosa sempre riguardante il calcio, i giochi di calcio perché come avete visto nell'ultima live ho fatto The Journey in FIFA 17 e come avete visto l'ho cancellata, poi non so se tutti hanno visto il video successivo oppure il messaggio su Facebook dove ho detto che mi hanno tolto l'audio di quella live perché si sentiva la sigla di The Journey e quindi vabbè ho messo la live privata perché non aveva senso diciamo lasciare pubblica un video senza l'audio non aveva molto senso e quindi io ho in mente di ricominciarla ditemi voi allora se vi farebbe piacere quest'idea di fare però in video tutto il The Journey io lo farei solo con i video, l'idea di farlo in live anche per il fatto del copyright non mi piace e poi ditemi anche voi cosa ne pensate io credo che la farò in video però prima di tutto ditemi se farla poi pensiamo a come farla quindi se vi piacerebbe l'idea di fare tutto il The Journey in un gameplay ok ditemelo e magari io lo farò cioè anzi se tanta gente mi dice di sì ovviamente non posso dire di no come ho fatto in passato già con altre serie che sono state votate proprio da voi tipo LBX, Yo-Kai Watch e altre sicuramente che non mi ricordo però non mi vengono in mente quindi ho parlato della Master League di The Journey e credo di aver detto tutto vi ricordo domani la live alle 14 domani cioè 2 marzo e a proposito di marzo oggi è cominciato il nuovo mese e quindi potete essere salutati di nuovo io non ho saluti da fare ovviamente per questo video però come ogni mese potete essere salutati vi ricordo appunto come c'è scritto in descrizione di tutti i video che ognuno può essere salutato massimo una volta al mese quindi oggi essendo ricominciato marzo cioè il nuovo mese potete chiedere nei commenti di essere salutati quindi credo di aver detto tutto purtroppo come state vedendo in questo periodo non sto pubblicando tanti video ve l'ho detto anche in uno degli scorsi video di Nazoomel vengo cronostone se non ricordo male e comunque il motivo l'ho anche detto su facebook cioè purtroppo non sto avendo molto tempo per caricare video e cercherò assolutamente di rimediare a questa cosa ripartendo a pubblicare video regolarmente già da settimana prossima quindi in teoria settimana prossima ricomincio a portare video tutti i giorni magari non 7 video a settimana ma almeno 6 cercherò assolutamente 5 o 6 video la prossima settimana di portarli e niente per questo video allora direi che è tutto e ci vediamo allora nel prossimo ciao a tutti